Con il crollo della civiltà micenea viene abbandonato l'uso della scrittura che era utilizzata essenzialmente per l'amministrazione dei palazzi. Dopo il loro crollo non aveva ormai alcuna utilità pratica per gli abitanti delle piccole comunità urbane e rurali che subentrano al regno miceneo in questo periodo. Solo verso il nono secolo avanti Cristo gli abitanti della Grecia antica tornano a scrivere. Essi adottano l'alfabeto fenicio adattandolo al proprio sistema fonetico. Tra i documenti più antichi che attestano l'adozione della scrittura alfabetica c'è la famosa Coppa di Nestore detta così perché riporta un'iscrizione in greco che allude alla Coppa di Nestore il condottiero greco citata nell'Iliade. Il reperto è stato trovato a Ischia e risale all'ottavo secolo avanti Cristo. Nei quattro secoli che intercorrono tra la fine dei regni micenei e l'inizio convenzionale della storia greca l'ottavo secolo non si costruiscono più tombe monumentali come quelle a Tolos di Micene. Per la realizzazione di questi monumenti era infatti necessaria una manodopera specializzata ed era soprattutto importante avere disponibilità di risorse economiche. La mancanza dei due fattori è un chiaro indice di regresso economico. Inoltre il numero ridotto delle sepolture rivela che in questo periodo si verificò un notevole decremento demografico e a proposito di tombe un cambiamento significativo rispetto all'età micenea è il tipo di sepoltura. Dall'inumazione cioè la sepoltura della salma si passa all'incinerazione. Il cadavere viene bruciato e le ceneri vengono raccolte in un'urna che viene poi interrata in un'area apposita assieme ad altre sepolture. Una testimonianza interessante da questo punto di vista è il cosiddetto vaso del Dipilon, un'anfora databile all'VIII secolo a.C., un capolavoro assoluto di precisione e di abilità tecnica. Era un'anfora evidentemente destinata a un uso funebre e non domestico, cioè ad essere posta come segnacolo al di sopra di una tomba della necropoli del Dipilon ad Atene. Nella fascia decorativa più ampia è rappresentato infatti un rito funebre. La defunta è una donna come si deduce dalla resa schematica dell'abito femminile. È distesa su un letto funebre dietro alla quale è raffigurata schematicamente la pira di legno su cui erano cremati i corpi. Atene. 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 Atene.